Ho sparato due volte alla testa di mio figlio malato di sclerosi perché si ostinava a vivere un'esistenza indipendente ma non riusciva a toccarsi le gambe con le mani. Quando gli agenti sono entrati i fori dei proiettili avevano già un colore antico, antico come me, che non avevo ancora compreso che ogni nuovo oltraggio della malattia umiliava solo il corpo di mio figlio, non la sua anima. Commento. L'handicap non serve solo a chi lo sperimenta, ma anche a tutti quelli che vengono a contatto con lui perché ogni evento accade per un fine collettivo di evoluzione. La legge non chiede mai un dolore a un individuo per riscattare lui soltanto, ma per incitare chiunque venga a contatto con lui a una riflessione interiore. Il dolore dell'individuo fa dunque da catalizzatore di energie spirituali per l'evoluzione sua e degli altri che a lui sono legati.